Audio partito. Il bello del cattivo tempo, ritroviamo Federico Perrotta, ma è la bellissima, perché c'è Federico, ma la bellissima Valentina Olla. Infatti è Federico Perrotta e Valentina Olla. Riempie proprio, riempie. Ah, io mi siedo, io mi siedo. Senti, in questo giro siete insieme, di nuovo, per 90's Night. 90's Night in realtà, se dici all'inglese. Sì, sì, ma va bene anche 90's Night, l'abbiamo chiamato in ogni maniera. Poi l'abbiamo chiamato al ritmo dei 90. I favolosi anni 90, gli Oscar degli anni 90, insomma, comunque si parla di anni 90, uno spettacolo targato anni 90. Eri nato negli anni 90? Sì, sì, sì. Io parlo del mio domande sugli anni 90. Beh, qual era la tua musica preferita negli anni 90? Negli anni 90... Cosa ascoltavi? Eh, bella, molta techno, facevo molta techno e... Perché nasce la... io avevo l'album delle figurine, Discoteche d'Italia, Panini Editore, non c'è più, io ce l'ho, l'ho completato tutto. Lo vedi? Era una partita perché volevo fare la cubista negli anni 90. Eh, è vero. Io volevo fare... io ho sempre voluto fare il cubo invece, credo si veda. E ci sei riuscito. Che vediamo stasera e poi nelle altre serate che verranno gli amici del bello e il cattivo tempo perché vengono? È un live show, un live show con la Reds Band, quindi tantissima musica dal vivo. Io e Perrotta che facciamo una notte degli Oscar, quindi abbiamo cercato di rinchiudere gli anni 90 in categorie da premiare. Quindi gli oggetti smarriti, gli oggetti che sono nati, quindi sono intramontabili, le miglior colonne sonore, ball band, gli spot, insomma tanta roba. Hai notato Marco come mi ha chiamato io e Perrotta? Io e Perrotta. Poi c'è l'altra cosa, quando sta arrabbiata mi chiama Afederi e invece a casa amo. Amo, perfetto e confidenziale, però su un palco è professionale. Quando non mi chiama mi preoccupo, c'è qualche problema. Comunque al teatro... La camicia te l'ha stirata a lei addosso naturalmente. E certo. No, in realtà c'è. Io sono un artista, no? Sono un artista anche nello stirare. È vero che stiro? Stiro male. Ogni tanto invece su questo spettacolo vi succedono dei piccoli momenti dove si perdono. Ah, invece allora diciamo ai nostri amici che dovete prestare molta attenzione alle parole delle canzoni... In inglese. In inglese di Federico Perrotta. Vabbè, ma se uno deve fare Gangsta Paradise, no? Anche nel titolo, già lo sbagliate. Ma lui non ha difficoltà... Ah, se no, tu dovevi fare l'odice dove te... A te che lo con me l'hai... A te che lo con me l'hai... Cosa ha be' impressionante... Basta che fai... Curio l'hai fatto, no? Qui la difficoltà, diciamo, vabbè, è Curio, quindi è difficile. Ma più che altro è che se tutto va bene lo indovini a Curio, no? Io chiuderei qua, farei il lancio dello spettacolo. Giovannotti. Che bello è se voi venite al teatro. Siamo a musica, la musica riempie il cielo. È una libidine, è una rivoluzione. Ciao mamma, guarda come mi vi d'erto. Dai, venite a Ninety Night. Tutto al più vi farete un sacco di risate. Vabbè, teatro Tirso fino al... 2 aprile. E poi dal 3 aprile invece a casa nostra potete... Noi proseguiamo, venite a casa nostra. Possiamo fare, possiamo fare. Noi ci siamo. Ciao. Ciao. Ciao.